Storie da Trampton presenta Il segno del comando dal romanzo di Giuseppe d'Agata edito da Rosconi Musiche di Fiorenzo Fiorentini, Romo Logano e Nico Tirone Letto e interpretato da Gilberto Landolina di Rigilifi Realizzazione a cura degli studi Eon Buon ascolto Dodicesima puntata Non me lo dì stanotte Chi è stregato è il cuore La verità fa male Lasciame sta visione per sperare L'auto di Edward imboccò una minuscola ma deliziosa piazzetta A sinistra era circoscritta da un muro antico sovrastato da un fitto fogliame Di fronte invece c'era un basso edificio seicentesco A destra una cancellata Dietro la quale si scorgeva, semicoperta da un enorme albero Una piccola chiesa medievale Sormontata da un basso campanile tardo romanico Edward fermò la macchina accanto alla cancellata Su cui si leggeva la targa ecclesiastica Santo Norio al monte Discese, entrò nel cortile E raggiunse il colonnato che faceva parte della facciata della chiesa Sospinse la porta Ed entrò in una penombra silenziosa Si guardò intorno, camminando lentamente E cercando di trattenere il rumore dei propri passi Un prete passò davanti all'altare Si inginocchiò rapidamente E si fece incontro ad Edward I due si scambiavano poche parole E si avviavano insieme per una visita alla chiesa Guardando i quadri alle pareti Edward decise di prendere degli appunti E trasse di tasca un tacquino Il prete era un giovane dall'aria ferrida Parlava in fretta Con un forte accento del sud Italia Purtroppo non siamo mai molto frequentati dai turisti Mi creda Io non mi stanco mai di dirlo a sua eminenza Che bisognerebbe darsi da fare Tanta grazia di Dio E chi viene a vederla? Qualche visitatore di Palato Fine Degli studiosi come lei Lei è studioso di storia dell'arte? No, no, non esattamente Studioso sì, ma di letteratura inglese Edward volle subito prevenire la delusione Del suo entusiasta accompagnatore Ma sono a Roma per delle ricerche Che riguardano anche l'arte italiana Lei saprebbe dirmi se qui nella chiesa C'è qualche opera di Ilario Brandani Ilario Brandani Il prete riflettè scuotendo il capo Ma hai sentito? Ma chi è? Si tratta di un oveafo della metà del settecento Nella metà del settecento? Pensavo che qui vi fosse qualcosa di suo Ha inciso un orologio sul quale c'era il nome di questa chiesa Curioso Aspetti, mi faccia pensare No, no, in fatto di incisioni Abbiamo un calice storiato paleocristiano E una bibbia miniata del trecento Tutta roba che teniamo in sagrestia Riprese fiato e proseguì È lì che abbiamo i veri tesori Delle icone bulgare autentiche Un candelabbro di bronzo che è una meraviglia I manoscritti di tutta l'opera del musicista Baldassarre Vitali Una statua del santo revestita d'argento Ma se l'è portata via Napoleone quando è stata a Roma E non l'ha mai restituita Guardò Edward Che prendeva rapidamente appunti Cosa fa? Scrive? Eh, qua c'ha da scrivere fino a domani Perché la chiesa è tutta una meraviglia Ma quello, quello l'ha visto? Erano fermi davanti a un quadro Che rappresentava il martirio di una santa Questo è il martirio di Santa Oliva Una delle patrone della mia città natale Dipinto di un artista fiammingo È una copia Ma le assicuro che è molto meglio dell'originale Lei che ne dice? Edward sorrise Dell'ingenue rivenza del giovane prete No, no, non lo so Non conosco l'originale Glielo dico io che è migliore Venga, venga, venga a vedere la sagrestia Volentieri, volentieri Ma prima mi dica Sto cercando anche delle notizie Su un pittore romano dell'ottocento Marco Tagliaferri Dopo un attimo di incertezza Il prete replicò col solito tono perventorio No, no, non abbiamo niente di questo Tagliaferri È un pittore di paesaggi Ha dipinto delle vedute di Roma, ovviamente Vedute di Roma? Abbiamo una veduta di Venezia Opera di un allievo del Tiziano Peccato che non sia finita Perché doveva essere bellissima Da questa parte, prego, le faccio strada Venga, venga con me Giravano un angolo E imboccavano un lungo corridoio Che conduceva alla sagrestia Padre, mi dispiace di farle perdere Così tanto tempo Ma si immagini Ci tengo a farle vedere la sagrestia Peccato che non abbiamo niente qui Quei due artisti che le interessano Ma non importa Ci sono cose belle ugualmente Venga, venga con me Venga con me L'appartamento di Barbara Era un piccolo attico Nella vecchia Roma Con una grande finestra Dalla quale si vedeva Castel Sant'Angelo Il soggiorno, piuttosto ampio Era imbiancato a calce E aveva pochi mobili Molto eleganti Un cammino spento E una piccola porta a vetri Che si apriva su una terrazza Nella quiete della sera Edward sedeva a un tavolo E passava in un piccolo visore I microfilmi presi dalla sua borsa Nella cucina Piccola Con pochi mobili essenziali Barbara stava preparando In una boccia di vetro Un caffè all'americana Parlò ad alta voce Rivolgendosi ad Edward Erano separati soltanto Da una sottile parete Come va? Riesci a vedere qualcosa Con quell'ernese? Sì, sì Riesco Va benissimo Grazie È un po' antiquato Ma è l'unico Che sono riuscito a trovare Vengo subito ad aiutarla Il caffè è pronto Non si preoccupi Mi diverte moltissimo È una storia emozionante Anche se lei Me ne ha raccontato Soltanto una parte Sono sicura Che mi nasconde Gli sviluppi più interessanti Mentre parlava Entro nel soggiorno Con il caffè in mano Che cos'è? Ha paura di impressionare La mia sensibilità femminile? Edward esitò brevemente No Diciamo piuttosto Senso del ridicolo Tolse dal visore Uno dei microfilm E lo rimise Nel suo minuscolo astuccio Poi Si voltò verso Berbere È strano Ero convinto Che avessero sottratto Almeno uno Di questi microfilm Invece Ci sono tutti E nessun segno Nessuna indicazione Probabilmente Appena aperta la borsa Avranno visto subito Di cosa si trattava Barbara Posse ad Edward Una tazza Chissà Forse speravano In una collezione Di donine nude Sarebbe stato Molto più divertente Per loro E per me Le confesso Che venendo a Roma Non avevo Nessuna intenzione Di lavorare Ero convinto Che mi sarei goduto Una breve vacanza E invece Non ho avuto Un attimo Di tregua Mi sembra Incredibile Di essere arrivato Soltanto Cinque giorni fa Barbara Indicò I microfilm Immagino Che lei sia L'unico uomo Al mondo Capace Di decifrare Queste pagine Edward Sorrisse Con sincera Modestia Ma no Per carità Ci sono Molti studiosi In grado Di farlo Solo Che avrebbero Bisogno Di parecchio Tempo Dei mesi Di ricerche Nelle biblioteche E negli archivi Io invece Devo risolvere Tutto Entro il 30 marzo E mancano Pochi giorni È giusto E allora Sarà meglio Che ci mettiamo Subito a lavorare Disse Barbara Prendendo un block notice E una matita Edward Invece Si alzò E si mise A passeggiare Per la stanza Ho già preso Degli appunti Su certe frasi Che richiedono Un'interpretazione Critica Byron Nel diario Cita luoghi E persone Che ha frequentato Durante il suo Soggiorno romano Luoghi E persone Che in alcuni Casi Non sono ancora Riuscito A individuare Mentre parlava Lanciò un'occhiata Alla stupenda Veduta Di Castel Sant'Angelo Che si poteva Ammirare Dalla finestra Il problema Di fondo È vedere Se aveva Ragione Nel sostenere Che la piazza Citata da Byron È una piazza Immaginaria Una Fantasia Poetica Beh Sembrerebbe Di no Dal momento Che quel pittore L'ha dipinta Ma forse Bisognerebbe Riuscire A trovare Quel quadro Eh beh L'ho trovato Disse Edward Fermandosi A giocare Con un piccolo Gadget Collocato Sul camino Era una sagoma Di legno Con le braccia Aperte in croce Toccando la pena La figura Precipitava lentamente Lungo una tavoletta Edward rispose Allo sguardo Interrogativo Della ragazza Qualcuno Però È riuscito A farlo sparire Di nuovo E nessuna idea Di dove Possa essere finito Oh Ma certo Su una nave A remi Se devo credere Ai messaggi Che vengono Dall'aldilà Barbara Lo guardò Interdetta Edward Non stava Affatto scherzando Preoccupata Vero? Eppure Le assicuro Che non sono pazzo O forse Lo sono E la pazzia Consiste proprio Nel fatto Che non voglio Ammettere Di esserlo Ma Il fatto è Che ieri sera Sono stato Ad una seduta Spiritica Barbara Si abbandonò Sulla poltrona Nell'atteggiamento Di chi si appresta Ad ascoltare Una storia interessante In quel momento Squillò il telefono Lei si alzò E andrò a rispondere Pronto? Ascoltando Guardò Edward Poi rispose Sì Glielo chiamo subito Passò il percepitore Ad Edward E si allontanò Di qualche passo Per accendere Una sigaretta Pronto? Disse Edward Nel microfono Si udì Una voce maschile Buonasera Buonasera Professore Mi scusi Se mi sono permesso Di chiamarla A questo numero Spero Di non aver Trovato Un momento Di intimità Ma chi è che parla? L'interlocutore Di Edward Parlava Nell'anonimo Soggiorno Di un villino Di periferia E portava L'orologio Nella parte interna Del polso Il berone rosso Lester Sullivan Era curvo Su un tavolino E volgeva le spalle A una finestra Sono Un amico Professore Lei ha molti amici A Roma Ma io credo Di essere L'unico Di cui si possa Veramente fidare Ah Ho capito L'ho riconosciuta Sullivan Che cosa Mi deve dire? Volevo Scusarmi Con lei Per aver lasciato L'albergo Senza salutarla Ma lei Assicuro Che avevo Le mie Buone ragioni Senz'altro Non lo metto In dubbio Ma dov'è Olivia? No Olivia Non è con me Ha abbandonato La barca Ma Sono convinto Che abbia fatto Un errore Un errore Gravissimo Alle spalle Di Sullivan La finestra Era aperta Su un giardino In penombra Seminascosto Dal fogliame A pochi metri Un uomo Lo stava tenendo D'occhio Eva Powell Ad un certo punto Si portò lentamente La mano Alla tasca interna Della giacca Professore Mi ascolti L'ingranaggio Si è messo in moto C'è stato un morto Immagino Che avrà capito Di chi sto parlando Anche se sono riusciti A far credere Che si tratti Di morte naturale Anche per lei È già pronto Un certificato Di morte naturale In data 31 marzo 1971 Senta Se vuole decidersi A parlarmi Va benissimo Ma non per telefono Dov'è lei adesso? Mi trovo In un luogo discreto Dove sarò lieto Di invitarla Per continuare La nostra conversazione Sullivan Si portò il microfono Più vicino alla bocca E abbassò la voce Io So qualcosa Professore Che gli altri Non sanno Qualcosa Che potrebbe Esserle Estremamente Utile Posso dire Di avere in mano La metà Di un biglietto Di banca L'altra metà È nel diario Di Byron Si tratta Soltanto Di riunire I due pezzi E lei Con quel biglietto Potrà comprare La sua salvezza Professore Altrimenti Rischia di perdere La sola possibilità Di cavarsela E Le parole di Sullivan Vennero interrotte Da due colpi Di pistola Che echeggiavano Nel ricevitore Barbara sussultò Era a qualche passo Di distanza Ma udì Distintamente I colpi E osservò La reazione Allarmata Di Edward Pronto? Pronto Sullivan? È ancora in linea? Pronto? Nel soggiorno Della villetta Il telefono Pendeva da un tavolo Una mano Sollevò il ricevitore E lo depose Sull'apparecchio Telefonico Sul tavolo Accanto al telefono C'era Una grossa pistola Con gli occhi Nel vuoto Edward Vi agganciò Ascoltò Le parole Di Barbara Come se venissero Da chissà dove Erano due colpi Di pistola Non è vero? Edward La guardò Con una smorfia Che voleva essere Un sorriso Così mi è parso Un modo Piuttosto brusco Per interrompere Una telefonata O per farla Interrompere Ma chi era? Edward Non rispose Barbara Allora Sentì il dovere Di insistere Ma lei Non ha proprio Intenzione Di aprirsi con me Vero professore? Io Devo solo aiutarla Ma al buio Edward Si avvicinò E le rivolse Un timido Gesto affettuoso No Barbara No Non è per mancanza Di fiducia in lei Tutt'altro E che devo sforzarmi Di non pensare A questa storia assurda Che non mi riguarda Devo occuparmi Soltanto Del diario di Byron Mentre parlava Il suo occhio Cadde su un calendario Mancano Solamente Cinque giorni Alla mia conferenza Intanto Nel giardino Della villetta Powell Chiuse un portasigarette D'oro E lo ripose Nella tasca interna Della giacca Si portò La sigaretta Alle lab E la accese Poi lanciò Un'ultima occhiata Verso la finestra Della villetta E si allontanò Senza fare Il minimo rumore Resa lì Un pendio erboso Raggiunse Un'auto Ferma Sul bordo Di una strada E ne prese Il posto Al volante Sul sedile Accanto Una bella ragazza Scritta che diceva Vai ad agio Pensa a me Il portaritratti Conteneva una fotografia Di Powell Lui sorrisse a se stesso E fece partire la macchina Fine Della dodicesima puntata Dindon Dindon Amore Cento campane Stanno A ditte no Ma tu Ma tu Amore mio Se mai lasciato Ancora Nullo di